Sono oltre 60 i piccoli pazienti ricoverati negli ultimi mesi al San Luca per l'epidemia di bronchiolite sinciziale, un virus ampiamente conosciuto che negli ultimi tempi è diventato però particolarmente aggressivo per i neonati da pochi giorni a qualche mese di vita, che manifestano segni di insufficienza respiratoria tali da richiedere il ricovero in pediatria e, nei casi più gravi, il ricorso a intubazione e ventilazione meccanica invasiva. Abbiamo avuto un solo caso di nove giorni, l'unico caso che abbiamo dovuto trasferire presso la TIN di Pisa perché stava male e gli altri che si sono gestiti da noi da 12-15 giorni fino a 2-3 mesi di vita. Di questi alcuni hanno necessitato di assistenza respiratoria con alti flussi perché dal punto di vista respiratorio erano compromessi. Il quadro si complica particolarmente quando l'epidemia sinciziale si associa all'influenza, a bocavirus e rinovirus, rendendo l'intervento e le terapie più impegnativi. Abbiamo toccato momenti in cui nel reparto c'erano 10-12 casi in contemporanea, tutti, ripeto, piccoli e quindi richiedevano una certa sorveglianza oltre alla loro assistenza respiratoria. Con un numero di casi in aumento rispetto allo scorso anno, è impossibile prevedere l'andamento dell'epidemia. Resta però fondamentale la prevenzione. La prevenzione delle mani, cercare di non portare i bimbi piccoli in ambienti chiusi e poi il primo approccio, sempre come visita, è presso il medico curante che ritiene chiaramente opportuno o meno ricoverarli in ospedale secondo della loro visita.